Allora, siamo al Fusion, Firenze, un posto sicuramente alla moda, sicuramente molto, diciamo, lo pighetto e niente di più banale di presentare uno champagne, che però non ha un nome banale. No, esatto, esatto, è la provocazione, è una provocazione che si ripete, un clochard che si ritrova al Fusion, un clochard per spirito libro, per scelta, l'idea di essere non necessariamente collegato a un sistema lussuoso ostri e champagne, ma a quanto a un panino con la mortadella, una frittata di patate, a un panino e a un panino. Stasera, per appunto, diciamo, chiaramente il livello è un po' più elaborato, ma trovo l'apoteosi anche. Un po' da bosca da riviera, diciamo, volendo, no? Esatto, e questo è lo spirito libero di un clochard che sceglie di essere se stessa di là di dove va e si sposa benissimo con questi deliziosi appetizer, anche se dagli anni Ottanta e non lo dicevo, appetizer, però con queste deliziosi specialità del Fusion, ma con una frittata di patate. E quindi, diciamo, questo, allora, visto che tu non vuoi apparire, allora... No, va bene, non è un problema, è che... Sicuramente lo acquisivo, dicevi, pinot nero, quindi la priorità assicurata. 80% pinot nero e 20 chardonnay, tre anni cilieviti, sboccatura dicembre 2010, quindi ha tutta un'evoluzione davanti, la struttura è il pinot nero, l'eleganza dello chardonnay... Però sento, ecco, appunto, dicevi, al di là del... ok, il naso effettivamente accattivante, anche molto giallo, come il naso, molto ricco, ma direi che in bocca, no? Che questa sensazione, a parte della classica bevibilità dello champagne, ma c'ha veramente questa sensazione molto amiche, non è austero, non ti tiene a distanza, no? No, è uno champagne da bere, l'idea che voglio di... cioè, che credo è prima, è che comunque un vino da bere in tutte le occasioni trova il suo equilibrio, non stucca, non c'ha questa crosta di pane troppo esasperata... No, anzi, direi che è più sul citrino, ma neanche tanto, direi che è veramente... effettivamente è abbastanza da bosco e da riviera. E dal punto di vista, diciamo, enologico, com'è stato realizzato questo? Cioè, sono state scelte le basi particolari? Scendiamo un po' sul tecnico, visite? Sì, sì, allora, intanto siamo a Damerì, a sud-ovest di Reims, per dare un collegamento geografico. Un piccolo produttore si chiama Goutot Bouillot, che in Italia non è presente, fino a... è incominciato a bottigliare da due anni, quindi attraverso i clochard è arrivato in Italia. Ah, ok. Quindi sono le... Voi è arrivato da clochard in Italia? Ma nasce lo chard e arriva in Italia, perché è una QV personizzata, apposta per l'Italia, un po' meno dosaggio rispetto alle root base che fanno loro, un po' più vino e nero, quindi un prodotto ad hoc che è arrivato qui, l'etichetta d'occhio per l'Italia, Firenze e per... Sì, 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 ecco, l'idea comunque è di divertirsi e di bere questo vino, che sia al fusion, che sia una frittata a... O una delle figitorie famose di Firenze, che sono quasi un'estinzione, l'idea di se ci fossero ancora sarebbe più vedervi. Se ci fossero ancora sarebbe il... Questo è un po' il progetto, poi, insomma, ci si diverte sempre dentro, no? Ah, questo. Va bene, Teseo, noi lo assaggeremo, riassaggeremo più in là.